ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora siamo arrivati a 5.000 iscritti io sono tipo ah ma che davvero e niente sono un po tipo ma è vero non è vero ci credo non ci credo insomma un po così e niente sono contentissima ovviamente vi ringrazio ragazzi grazie e no ma solo se io sto parlando sinceramente e sono ancora più contenta perché finalmente finalmente a questo traguardo questa cifra tonda tonda che nonostante non sia grandissima cioè almeno non è vero perché immaginatevi 5.000 persone insomma è un paesino 5.000 persone è un paesino quindi insomma comunque grazie a questo traguardo e in seguito anche vabbè dopo varie vicissitudini email mica email sono riuscita finalmente ad organizzare grazie alla collaborazione del sito Banggood con cui avevo collaborato qualche mese fa e avevo fatto un video praticamente nulla di che cioè nulla di sponsorizzato nulla di che semplicemente mi avevano regalato alcuni prodottini comunque sono riuscita a organizzare un giveaway e niente sono tipo giveaway come sono professional comunque tranne i vari eventuali sono riuscita a organizzare con Alessia che è la ragazza che si occupa appunto di parlare vorrei dire PR però sì diciamo così sono riuscita ad organizzare appunto questo giveaway cercando di avere il massimo di cioè tanti vincitori più numero possibile ovvero tre praticamente i tre vincitori avranno la possibilità di spendere un budget di circa 15 dollari sul sito in tre categorie labbra occhi e pennelli comunque le leggete qua quindi appunto stando serie ci saranno tre vincitori che avranno la possibilità di spendere circa 15 dollari che sono circa 15 euro sul sito nelle tre categorie di cui potete vedere se volete farmi un'idea il link qua nella descrizione e niente comunque tre vincitori su 5.000 che siamo è uno pure cioè ci sono abbastanza probabilità di vincere quindi vi consiglio di partecipare se avete voglia anche magari a quei maschietti che mi seguono che non si truccano abitualmente ma magari fanno cosplay perché ragazzi il trucco serve trucco, pennelli, protesi di denti, tutte queste cose servono se volete fare cosplay quindi se volete ancora migliorare di più e buttarvi anche nel make up comunque scenografico particolare per il cosplay è un'ottima opportunità anche per provare perché ovviamente se avete qualsiasi dubbio se volete qualche consiglio per quanto io ovviamente non sia una professionista ve lo darò perché poi quando uscirà il video o comunque scriverò adesso non so se farò uscire un altro video con le estrazioni o scriverò i nomi sotto questo comunque ci sarà, vi darò, insomma vi contatterò e quindi potremo parlare tranquillamente allora il giveaway durerà circa dieci giorni e adesso dico circa perché dopo dieci giorni devo trovare il tempo di mettermeli a fare l'estrazione sarà un'estrazione random perché le regole non implicano creare alcun tipo di contenuto semplicemente quello che dovete fare è che abbiamo deciso allora che ho deciso anch'io allora ovviamente so sarà banalissimo dovreste iscrivervi al canale questo qua per i sounds quello che mi vedete adesso quindi essere iscritti al canale e in modo che io possa verificare avere le iscrizioni pubbliche quindi dovete andare sul vostro profilo o profilo di youtube e mettere le iscrizioni pubbliche in modo che io possa vederle poi aspettate che mi sono iscritta perché non mi ricordo ok mettere mi piace a questo video e sempre tenere le playlist pubbliche quindi andate sulle impostazioni del vostro profilo di youtube e mettete le playlist pubbliche poi ovviamente alla fine di tutto potete rimettere privato non si fa nessun problema poi dovrete commentare una sola volta questo video una volta una sola volta e con quello che vi pare volete darmi dei consigli avete dei pareri volete che ne so dirmi quale sarebbe il prodotto che vi piacerebbe vincere eccetera eccetera e poi se volete avere la possibilità di fare un altro commento quindi di avere due possibilità in tutto di essere estratti potete andare a seguirmi anche sulla mia pagina di instagram trovate sempre il link sotto tutti i miei video sotto tutti i miei video e niente potete seguirmi lì è una possibilità in più buona cosa quindi se volete vi lasciate seguirmi su instagram anche se non volete partecipare mettetevi su instagram vedete mi sono tanto sola lì non c'è tanta gente ok quindi i vincitori verranno estratti in modo casuale con un sito che ho cercato ecco in cui si fanno le estrazioni random dai commenti di video e niente 3 vincitori 15 dollari sulle categorie che trovate qua sotto ritrovate tutte le regole elencate se non avete voglia di rivedervi mille volte questo video ascoltare la mia voce mille volte mille volte e così fate veloce veloce e niente spero che parteciperete vi ringrazio ancora perché io sono tipo boh non lo so non so se boh io sono bravo a fare queste cose e poi ci provo ci è fatto tutto un impegno e niente questo è quanto un commento a ciascuno se volete farne due seguitemi sulla mia pagina di instagram che comunque si chiama fairy-bass cosplay ovviamente ringrazio ancora ben good per questa opportunità perché insomma sono stati gentilissimi bene allora io vi saluto per la trentordicesima volta ciao